sincerità decima o undicesima ah quindicesima vabbè quando ad un certo punto della mia vita ho smesso una volta per tutte di lasciarmi solleticare da quella malefica tentazione di invidiare i vari figli di illudendomi che se anch'io fossi stata figlia di avrei avuto una vita più semplice più sistemata con molti meno dubbi magari su cosa fare cosa non fare su dove sbattere la testa per dare anch'io il mio contributo su questo piano terreno ecco quando ho definitivamente detto stop a tutte ste fregnacce come direbbero gli amici romani quando finalmente mi sono messa davanti allo specchio e in un moto di estrema e definitiva sincerità mi sono chiesta ma insomma cosa diavolo ti piace fare illuminazione miranda miranda priestley ovviamente che al 94esimo minuto del diavolo veste prada dice non essere ridicola andrea tutti vogliono questa vita tutti vogliono essere noi e poi c'è skyler che in goodwill hunting genio ribelle dice mio padre è morto che avevo 13 anni e ho ereditato i suoi soldi ma credi che ogni giorno non mi svegli col desiderio di fare a cambio che non li darei indietro in un istante se significasse un giorno in più con lui ma non posso questa è la mia vita e io la prendo con me e così via tante tante tantissime altre 50 e più sfumature di essere umano questo mi piace